Salus a 18 ottobre 2010. Miei cari, davanti i vostri occhi sta avvenendo il crollo del grande impero capitalista, che ha governato il mondo per tanti anni. Fin dai primi tempi dell'entrata in vigore della Costituzione americana NDT, i vostri diritti sono stati gradualmente erosi, fino all'odierno controllo, quasi totale, degli illuminati. A questo punto del loro programma di dominio mondiale, non sono più in grado di mantenere la supremazia ed ora stanno crollando. Il prossimo futuro sarà pesante e caotico, prima che il piano per il vostro futuro sia rivelato ed attuato. Potete esser certi, che il risultato è già assicurato, conformemente al progetto per la vostra elevazione. Come sempre, cercate di vedere al di là delle circostanze immediate, sapendo che non si protrerranno a lungo. I nostri alleati sono stati informati e pronti ad assumere il controllo in vari modi. Questo condurrà non soltanto al vostro salvataggio, ma anche ad un cambiamento di rotta, che vi porrà stabilmente sul sentiero, che conduce all'ascensione. Il disordine e le ultime vestigia del vecchio sistema saranno progressivamente spazzati via, e ne saprete di più sulla vostra famiglia dello spazio e di legami che intercorrono tra voi. Insieme, progredirete molto più rapidamente di quanto altrimenti avreste potuto fare, e la vita sarà colma di gioia e piacere mentre l'amore e la luce porteranno grandi trasformazioni. Cercate di non farvi assillare dai problemi materiali, perché le soluzioni sono già note e tutto sarà risolto a tempo debito. Gran parte della prima ondata di cambiamenti consisterà nel conferire alle persone giuste l'autorità necessaria, questo è essenziale per quanto riguarda la politica e, ovviamente, tutto procederà più rapidamente quando le persone in carica lavoreranno per il bene di tutte le genti. La verità nascosta concernente molte questioni per voi importanti, sta ora emergendo e c'è ancora molto di più da rendere di pubblico dominio. È importante, che comprendiate come, da eoni di tempo, siete stati ingannati, perché questo vi porterà ad accettare tutta la portata dei cambiamenti, che introdurranno nuovi modelli nella vostra esistenza. Allora certamente non vorrete più ritornare alle vecchie pratiche, non di meno non ci sarà alcun vuoto poiché i nuovi programmi vi consentiranno di compiere un grande balzo in avanti. Questo vi ricompenserà abbondantemente di quel che potreste aver perso durante tale processo, e sarete molto soddisfatti del risultato. Non appena potremo lavorare apertamente insieme, le nuove tecnologie renderanno più rapidi i cambiamenti, portandovi condizioni di vita più agevoli e felici. Con il tempo, sopravverranno ulteriori cambiamenti, che vi innalzeranno ancor più facendovi entrare nelle dimensioni superiori. Allora la vita sarà ancor più beata e piacevole, circondati di bellezza ed armonia. A quel momento, sarete diventati anche voi esseri galattici, dotati di un enorme potere di creare a vostro piacimento. Individualmente, avete qualche karma da espiare e quel che ne resta non può accompagnarvi nelle dimensioni superiori. Talvolta si tratterà di cambiare la direzione dei vostri pensieri, stimolati dalle basse vibrazioni ancor presenti. È semplicemente una lezione per farvi restare focalizzati su tutto ciò che appartiene alla luce, allontanando il pensiero da quanto non è più a vostro vantaggio. A pochi di voi non è capitato di avere talvolta pensieri negativi, anche se non date loro abbastanza energia da manifestarli nella vita corrente. Pensate soltanto a quel che è integro e bello e scansate con dolcezza ogni altro pensiero, affinché non ritorni. Che ne siate più o meno coscienti, tutti voi state mutando, e molti presentano sintomi di squilibrio derivanti da tali cambiamenti, come sentirsi abbattuti o letargici, ma passeranno presto. Quello di cui avete bisogno è di riposare per evitare essere stressati e le ore di sonno adeguate sono assolutamente necessarie. Il vostro corpo fisico sta mutando in modo sempre più accelerato, ma una volta che vi sarete a suoi fatti, questi mutamenti si riveleranno vantaggiosi. Vi sentirete rinnovati e molto più energici di prima, ed avrete già un piede nelle dimensioni superiori. Vi state autoguarendo, i problemi fisici gradualmente spariranno e godrete di perfetta salute. Da ultimo, il vostro corpo non potrà più essere toccato dai problemi, che ora vi affliggono. La gente sta diventando più attiva, perché la loro coscienza è stata aperta dalle energie superiori, che vi giungono dallo spazio esterno. Di conseguenza, state cominciando a comprendere che è in vostro potere reclamare i diritti, che vi appartengono e far pressione sui governi affinché le cose cambino. Probabilmente non potrete spingervi troppo avanti prima degli annunzi, ma poi il nostro aiuto garantirà che sarete adeguatamente rappresentati. Gli oscuri persistono nel disseminare paura contando molto sulla possibilità di attacchi terroristi e la loro mano è accento acuto dietro la maggior parte degli incidenti. In ogni caso, non tollereremo nessun incidente di vasta portata, e chi ci tenta scopre di non approdare a nulla. Desideriamo che vi sentiate abbastanza forti da confutare qualunque tattica della paura, in modo da non dar loro alcun potere su di voi. Diffondete la luce ovunque potete e, se identificate dei settori privi di luce, inondateli con la vostra. Se siete molti a farlo, si genera una sorprendente carica di potenza tale da trasmutare le energie negative. Noi della Federazione Galattica monitoriamo con cura quanto avviene, perché Madre Terra deve portare avanti il proprio programma di depurazione. Somiglia a voi nel senso, che anche lei deve liberarsi di tutto quanto non è compatibile con le dimensioni superiori. In ogni caso, non soffermatevi sugli scenari peggiori, altrimenti rischiate di partecipare alla loro concretizzazione. Tutte le trasformazioni avranno con il minor danno possibile per voi e noi siamo in grado di avvertirvi su quali sono le aree di maggior pericolo. Lavoreremo nel retroscena per lenirne l'impatto, quando consentito. Di continuo avvengono sulla superficie terrestre trasformazioni minori, del tutto naturali, e che di solito presentano pericoli limitati. Io sono il siriano Salusa e, come molti, in passato abbiamo visitato anche la Terra. Nella vostra storia ci sono parecchi resoconti di tali visite, ora accettati come fatti realmente accaduti. Spesso e accento acuto stato unicamente il tenore delle descrizioni ad impedirvi di crederci, perché agli antichi popoli era difficile trovare le parole adatte a descrivere tali incontri. Vi abbiamo spesso ripetuto di essere con voi da migliaia di anni, e che questo fu previsto per risvegliarvi ad altre forme di vita. Vi abbiamo anche aiutato a progredire, facendovi giungere informazioni utili per fare avanzare le vostre conoscenze nel campo della medicina e dei mezzi di sopravvivenza. Adesso avete superato queste fasi iniziali ed ora veniamo per offrirvi i vantaggi delle tecnologie avanzate. Grazie, Salusa. Mike Quincy traduzione Costanza 2003